Sotto certi aspetti è come se mi avessero tagliato le gambe. È così. È come se mi avessero tagliato le gambe. Senza il mio mobility mi sento emarginato. È un atto vergognoso e indecoroso. Ora confido nel buonsenso e nella solidarietà delle persone. È amareggiato, deluso e sconcertato Roberto Lacoppola, il 28enne, disabile dalla nascita, che ha subito il furto di questo mezzo, una carrozzina motorizzata di colore rosso metallizzato del valore di circa 4.000 euro e rilasciato dalla comunità europea per agevolare i diversamenti abili e che per lui è essenziale. Ho subito un furto in casa. Praticamente è stato rubato il mio mobility. Il mio mobility è il mio mezzo con il quale mi sposto e mi permette di poter spostarmi e poter effettuare delle piccole azioni quotidiane. Ha detto che è come se le avessero proprio tagliato le gambe, perché così è completamente immobile. Sì, sì. Senza di quello io rimango chiuso in casa, rimango emarginato. È accaduto probabilmente nella notte a cavallo fra mercoledì e giovedì scorsi in via Menotti al vallato di Fano, dove Roberto vive con la famiglia di sua sorella. Ad accorgersene giovedì mattina, intorno a mezzogiorno, è stato il cognato a rientro dal lavoro. Dove abitiamo c'è una rampa, c'è un garage e noi abbiamo praticamente un piccolo spazio al di sotto, sotto scala, dove abbiamo la bicicletta, la vespa, il motorio. E in questo caso il mio mobility. Originario di Bari e trasferitosi a Fano 5 mesi fa, Roberto ha sottolineato il fatto che il quartiere del vallato è poco illuminato e questo può agevolare, ha detto, i malintenzionati a mettere a segno furti. Bisognerebbe intensificare soprattutto l'illuminazione perché questa deficienza permette a questa gente di agire indisturbata e di compiere atti di questa incresciosità mostruosa. Chi lo ha fatto, ha concluso, non può essere definito un essere umano. È un gesto indescrivebilmente ignobile. Io non riesco a descrivere una cosa di questo genere. Chi si è macchiato di questo gesto è un vigliacco, così il sindaco di Fano Massimo Seri che ha espresso sdegno per il furto subito da Roberto Lacoppola. È una vergogna, io sono arrabbiatissimo perché una città come Fano non si può permettere che accadono delle cose simili, perché sono atti da vigliacchi, non ci sono altri termini. Il furto è sempre da condannare, ma quando si va a colpire una persona che ha delle difficoltà, dei disagi, non ci sono termini per descrivere una cosa del genere. Quando Roberto mi ha chiamato per denunciare questa cosa, mi sono sentito un peso sullo stomaco, mi sono vergognato che possono accadere determinati episodi, anche se Fano non è questa cosa, se c'è una mila marcia non è la città che ha... Però queste cose vanno condannate e quando accadono un sindaco deve essere vicino a quella persona che subisce questi atti, specialmente se si tratta di una persona di una sensibilità come quella di Roberto. Penso che le mie parole siano quelle di tutti i cittadini fanesi, ha proseguito il sindaco e la miglior risposta è quella di reagire aiutando Roberto. Gli ho già promesso che mi adopererò per cercare di capire se è possibile trovare come riacquistarla, se questo non fosse possibile ci adopereremo per fare una raccolta e per riacquistarla. Invito anche tutti i cittadini che se avessero visto qualcosa di segnalarlo alle forze dell'ordine e fare in modo che queste cose non si ripetano più.